All'esito di indagini coordinate dalla distrazione distrettuale antimafia di Napoli, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento di confisca di beni del valore di 1,3 milioni di euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Santa Maria Capoavetere nei confronti delle figlie del defunto Giordano Ciro, alias Ciruzzo Avarchetella. Il Giordano avrebbe avuto un ruolo di primordine nello scenario criminale campano, in quanto già dagli anni Ottanta avrebbe gestito le ingenti somme di denaro delle maggiori organizzazioni camoristiche utilizzando per la vomitazione dello stesso i propri conti personali. Le indagini di natura economico-finanziaria svolte dagli specialisti del GICO hanno permesso di accertare che in un limitato arco temporale i conti del Giordano si sono arricchiti di oltre 6 miliardi di vecchie lire. Il legame trasversale con i maggiori sodalizi criminali campani, quali Candi Casalesi, Contini e altre organizzazioni criminali di comprese nella cosiddetta alleanza di Secondigliano, se da un lato gli avrebbe consentito di gestire enormi somme di denaro destinate all'usura e al riciclaggio, dall'altro sarebbe risultato deleterio per la famiglia Giordano, raggiunta nel periodo del 1987 al 2001 da diversi sequestri. Le confische in esecuzione oggi sono giunte al termine di attività investigative che hanno determinato diversi provvedimenti cautelari a carico di soggetti molto vicini al Giordano. In particolare le indagini svolte hanno fatto emergere la totale incapienza patrimoniale dei componenti del nucleo familiare del Giordano Ciro per assenza di fonti lecite di guadagno in grado di giustificare il valore economico del patrimonio accumulato nel tempo.